effettivamente di magistris fu fatto fuori perché era un cigno nero dice lui era un magistrato fuori dal sistema la passione della mia vita l'amore della mia vita professionalmente parlando è stata la magistratura provengo da quattro generazioni di magistrati bisnonno nonno e papà però non ho avuto la passione da bambino né da ragazzo ho deciso di voler fare il magistrato appena mi sono iscritto all'università facoltà all'epoca facoltà di giurisprudenza federico secondo sono stato molto indeciso fino alla fine se iscrivermi a filosofia o a giurisprudenza però gli ultimi giorni a fine ottobre dell 85 mi iscrissi a giurisprudenza come iniziato a studiare i primi testi sono stati istituzioni ditto romano diritto privato e diritto costituzionale mi è scattata dentro subito la molla della magistratura del resto devo dire il senso di giustizio l'ho avuto molto profondo da bambino da ragazzo anche a scuola proprio giustizia uso questo termine lo tengo distinto dalla legalità perché sono due cose che dovrebbero coincidere ma purtroppo nel nostro paese soprattutto non coincidono perché spesso la legalità formale intrisa da una profonda ingiustizia quindi mi sono laureato devo dire brillantemente in quattro anni con 110 e lode e poi è venuta la parte più difficile la preparazione di un concorso davvero complicato che ho vinto molto giovane al primo tentativo scritti orali quindi comincio il periodo di tirocinio poi la scelta delle sedi e mi tocca la calabria io avevo scelto la funzione volevo fare il pubblico ministero perché mi sono da subito appassionato di questa funzione l'investigazione la ricerca della verità la dialettica tra accusa e difesa la dinamicità anche dei maestri che ho avuto a napoli che mi hanno fatto entusiasmare da questo punto di vista il diritto penale la procedura penale mi hanno preso di più delle altre materie seppure il diritto mi ha davvero appassionato tutto ancora oggi da giurista ritengo che il diritto sia una delle materie più dinamiche contrariamente a quello che si può immaginare che il diritto ha una funzione rivoluzionaria soprattutto se pensiamo alla massima massimo luogo apicale del diritto che la costituzione la gerarchia delle fonti io ho cercato sempre di interpretare le leggi in maniera costituzionalmente orientata devo dire avevo sempre piuttosto idealizzato la magistratura perché vedevo mio padre magistrato apprezzato da tutti intergerrimo onesto riservato umile appassionato del suo lavoro per me la magistratura mio padre mio padre appartiene alla generazione di magistrati come paolo borsellino cito lui perché erano dello stesso concorso ma ne potrei citare altri una magistratura che col tempo è andata sfumando quindi per me quella era la magistratura e devo dire papà manca ormai da quasi vent'anni mi ha un po' tradito mio padre lo dico ovviamente in modo affettuoso perché mi ha ingannato perché purtroppo ho capito subito sulla mia pelle andando a lavorare credo nel contesto giudiziario più difficile d'Italia forse d'Europa cioè la calabria che la magistratura era ben altro ben altro non erano la magistratura non era gli eroi solamente i falcone borsellino il livatino chimici magistrati ammazzati dal terrorismo o dalle mafie la magistratura in calabria era anche ma anche in modo cospicuo e non in modo raro collusione corruzione contiguità con la mafia complicità mediazione morale sotterfugio l'antitesi del magistrato previsto in costituzione cioè del magistrato autonomo indipendente che l'autonomia e l'indipendenza non sono un privilegio per il magistrato sono la garanzia dell'applicazione dell'articolo 3 della costituzione cioè l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge si può realizzare solo con una magistratura autonoma indipendente dai poteri esterni ma anche dall'interno dall'interno significa che ogni magistrato deve essere autonomo responsabile sì ma indipendente non sottomesso ai diktat di una struttura gerarchizzata della magistratura e quindi mi sono reso subito conto che più che guardarmi io sono entrato in magistratura nel 94 nel 95 preso le funzioni più che guardarmi dall'andrangheta con la coppola e con la lupara perché la prima sede che ho svolto le prime funzioni sono state in calabria ti dovevi guardare proprio da chi ti stava solo vicino e poi col tempo ho pagato sulla mia pelle il livello di penetrazione della borghesia mafiosa come mi piace chiamarla all'interno della magistratura e quindi il tradimento l'accoltellamento il tritolo istituzionale la mia fine professionale da magistrato del pubblico ministero e titolare di indagini delicate è stata sancita anche oserei dire soprattutto da pezzi di magistratura quindi oggi non porto nessun rancore perché quell'amore lo tengo nel cuore nella mia testa nel mio corpo intatto però devo constatare che purtroppo la magistratura non è quella che pensavo quando cominciai a studiare sui libri di giurisprudenza c'è un tema morale gigantesco all'interno dello stato e all'interno della magistratura e c'è da fare una riflessione perché tra un politico colluso e un magistrato colluso è molto molto più pericoloso per la democrazia il magistrato colluso perché il politico colluso in cabina elettorale puoi andare con la matita e fai la rivoluzione la lotta alle mafie si può fare anche in cabina elettorale come ci insegnavano i nostri maestri della magistratura siciliana falcone borsellino un magistrato corrotto è difficile individuarlo è difficile scoprirlo utilizza il suo livello di corruzione per incidere sulle libertà delle persone devastante e quello che ho visto con i miei occhi e quello che ho ascoltato con le mie orecchie è molto peggio di quello che si è letto su libri si è raccontato su inchieste giornalistiche o si è ascoltato in televisione e uno di quei casi all'incontrario perché certe volte si dice che si esagera nelle inchieste giornalistiche o nei romanzi dove si parla di mafie o piuttosto nelle fiction televisive quello che ho visto è peggio anche a napoli nei sei anni in cui ho lavorato ho visto cose che non andavano all'interno della magistratura ma quello che ho visto in pezzi della magistratura calabrese non so se abbia uguali in altre parti del paese e sono un anello fondamentale della potenza della andrangheta andrangheta è divenuta la più potente organizzazione mafiosa italiana anche grazie alle complicità interne agli apparati di controllo dello stato magistratura pezzi di magistratura ovviamente pezzi di forze di polizia pezzi di servizi di sicurezza quindi immaginatevi quanto è complicato fare il magistrato il poliziotto il carabiniere finanziere in terra di calabria eppure non ho mai mollato ho cominciato a farlo a 27 anni primi processi di criminalità organizzata che ero molto più al di sotto dei 30 anni giovanissimo e quindi mi sono subito formato come si dice in quei casi o crolli o cadi a terra o non ti rialzi più oppure ne esci forte con la schiena dritta in grado poi di affrontare le varie sfide della vita soprattutto all'interno delle delle istituzioni devo dire che la mia il mio avvicinarmi alla magistratura ha anche una data simbolica che attraversa non di rado la mia mente che è l'ultimo giorno degli iscritti del concorso in magistratura io deposito l'ultimo tema del concorso sono cinque giorni l'ultimo giorno il venerdì tema di diritto civile molto complicato consegno completiamo lo consegno nelle mani del presidente della sottocommissione nella quale mi trovavo io all'hotel ergife di roma che era francesca morbillo la moglie di giovanni falcone era il 22 maggio del 1992 quindi era il tardo pomeriggio io consegno nelle sue mani l'ultimo scritto me lo ricordo proprio che mi alzai e consegnai proprio al presidente in quella in quella stanza piena di ragazzi speranzosi in una già calda giornata di maggio usci fuori scaricando la tensione mi ricordo mi trovavo su un muretto dell'hotel ergifere a via aurelia a roma era credo intorno all'imbrunire verso le 8 più o meno di sera e vi di arrivare questa croma blindata inconfondibile poi abituato a mio padre anche che girava con la macchina blindata per andare in ufficio diciamo abituato a quelle immagini familiari ho subito riconosciuto che era una macchina che evidentemente molto probabilmente portava un magistrato quindi incuriosito sbirciato questa macchina che lentamente entrava in questa zona dove c'era tanta gente tra l'altro c'era l'autista c'era a fianco all'autista la persona di tutela e dietro c'era la sagoma inconfondibile di giovanni falcone io vedi giovanni falcone che evidentemente intuì non è che ci volesse una grande capacità di intuito andasse a prendere la moglie e questo era il 22 maggio del 1992 il giorno dopo ci fu l'edizione straordinaria del tg1 credo poco prima del 17 se non ricordo male che annunciò la strage di capaci e poi poco dopo la morte sia di giovanni falcone di francesca morbillo e tre poliziotti che scortavano il magistrato più famoso probabilmente del mondo quello che sembrava imbattibile perché aveva una una visione anche no dell'eroismo e magistratura dei miti per me giovanni falcone era quello che non si poteva abbattere perché era il più protetto di tutti abbattere falcone significava abbattere un mito una certezza una roccia granitica queste immagini l'ho voluta raccontare perché ricordare a me stesso perché ha caratterizzato poi molto la mia vita perché io mi sono ispirato in realtà non solo a mio padre che non ha mai fatto il pubblico ministero è stato un magistrato sia civile poi per tanti anni penale ha fatto sempre giudicante ma perché queste sono state le figure di riferimento mio padre falcone borsellino livatino i magistrati impegnati in prima linea magistrati che credono nella propria funzione nel proprio anche ideale sempre con umiltà perché l'umiltà credo debba essere una delle caratteristiche principali del magistrato umiltà equilibrio autonomia distanza da ogni centro di potere capacità di leggere anche le dinamiche sociali poche settimane prima avevo anche conosciuto paolo borsellino era aprile del 92 quindi esattamente un mese prima paolo borsellino che era del concorso di mio padre si trovava a un convegno di diritto a napoli in un albergo del lungomare e ricordo che mio padre disse vogliamo andare al convegno c'è anche borsellino così te lo te lo faccio conoscere e ricordo che andai a questo convegno ascoltai borsellino e poi ebbi modo di conoscere e anche lui poi il 19 luglio del 1992 fu barbaramente trucidato a via d'amelio sotto casa della della madre ecco questi fatti mi hanno accompagnato sempre mi hanno dato quel senso di di tenerezza e di fragilità istituzionale della vita ma anche di grande sicurezza perché gli ideali non si possono mai abbattere non si possono mai distruggere puoi fermare l'uomo puoi fermare il lavoro puoi fermare le inchieste puoi inertizzare un lavoro individuale o di squadra ma non puoi fermare un ideale ed ecco perché poi nella vita ho cercato di far vivere i miei ideali con vesti diverse dopo che mi hanno fermato da da magistrato e credo che sicuramente la mia storia sia stato uno spartiacque all'interno della magistratura quello che che mi è accaduto nel corso degli anni è sicuramente un'anomalia che mai c'era stata in precedenza e che mai si è verificata successivamente sentire cosa dice intercettato a proposito di De Magistris l'ex presidente della regione Calabria e siccome si è indagato io ti richiedo e il pronuncio che era molto nervoso questo è un pagliaccio insomma ha scomodato un sacco di gente ha dato fastidio a un sacco di gente clamore immediato se Dio vuole che le cose vadano lasciamo stare lo dobbiamo ammazzare no, gli facciamo le cose civili per l'esercimento d'anni e ne affidiamo la gestione alla camorra napoletana non è che io voglio soldi tutto quello che riuscite tutto quello che riuscite a ottenere è vostro faccio una donazione col notaio ma almeno non è benefico uno può fare da donnazioso se è corunuto non lo so ma ti fai un mese non ho prove su questo mamma mia, basta mi auguro che qualcuno ascolti glielo vada riferire però indagheremo anche in questa direzione no, a me non me ne posso dire di meno ne vorrei stare in pace ma non mi hanno lasciato in pace ma non importa basta che sto bene, saluto io e il mio povero l'aiuto vabbè, ma c'è quel principio quella sorta di principio d'archimede non so come si chiami nelle eccezze naturali ad ogni azione corrisponde una reazione siamo così tanti ad aver subito l'azione che quando esploderà la reazione sarà adeguata allora, queste sono le voci loro e qui gli attori non ce ne sono Borsellino, il punto chiave non è la prima fase ammazzare perché ammazzare può dire metaforicamente cioè è la conclusione che sconvolgeva questo ha rotto le scatole da talmente tanti che ad azione corrisponde reazione la reazione deve essere tale da togliercelo dalle scatole mi sono sempre occupato in Calabria dove ho lavorato per nove anni come pubblico ministero poi sei anni a Napoli quindi complessivamente 15 anni mi sono sempre occupato devo dire di indagini molto delicate basti vedere una delle ultime puntate di report sull'andrangheta diversi dei personaggi citati erano personaggi già coinvolti in maniera principale in alcune mie indagini di cui sono stato titolare dagli inizi degli anni 2000 fino a quando mi hanno cacciato nel 2008 quindi indagini che riguardavano il più delle volte soprattutto corruzioni reati di criminalità organizzata colletti bianchi poi mi sono occupato anche di tantissimi altri reati ma quando mi occupavo di trafficanti di esseri umani di spacciatori di stupratori di rapinatori devo dire avevo il plauso unanime da tutti perché poi se si guarda quella che si chiama la cosiddetta carriera cioè i pareri che ti fanno i superiori durante gli anni in magistratura i miei pareri erano sempre sopra la media quindi sono stato considerato sempre un magistrato tra l'ottimo e l'eccellente ecco mettiamolo in questo modo poi divento un cattivo magistrato all'improvviso quanto più cominciano una serie di indagini che svolgevo con un pull perché poi riuscivo a creare sempre uno spirito di squadra di gruppo di coinvolgimento un punto di riferimento il primo che arrivava in ufficio e l'ultimo che se ne andava ho vissuto più con poliziotti carabinieri e finanzieri che con mia moglie e miei figli in quegli anni quindi non era il lavoro isolato di Luigi De Magistris purtroppo mi hanno isolato mi ha isolato soprattutto l'ambiente giudiziario quello che mi doveva proteggere sostenere aiutare difendere è là che c'è stato il tradimento statuale più importante cioè da parte dello Stato e gli anni decisivi sono cominciati dal 2004 sino poi al 2008 con un crescendo costante 2004 un'indagine molto delicata su Reggio Calabria con coinvolgimento di magistrati tante inchieste sulla sanità sui fondi europei poi comincia l'indagine Poseidone quindi l'indagine Why Not quindi l'indagine Toghe Lucane quello che dovrebbe essere la parte più evoluta della società soprattutto se ragioniamo in un territorio dove l'iniziativa economica privata è piuttosto debole dove la criminalità organizzata è tipo tradizionale l'andrangheta è molto forte se il principale punto di riferimento economico è la spesa pubblica ecco che la incominciamo a vedere noi parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro ma assolutamente sì se lei solo pensa che per quanto riguarda i fondi POR 2007-2013 quindi ciò che dovrà avvenire nel futuro si parla di circa 9 miliardi di euro quindi ci sarà un giro di le solite mazzette favoritismo clientelismo ecco io assumo il figlio del magistrato io assumo il figlio del politico guardi certe volte ho detto anche per non sbilanciare sempre il magistrato nei provvedimenti e nelle cose è un lavoro molto semplice anche per un giornalista per un social basterebbe andare a vedere le compagini societarie delle varie società vedere chi sono i consigli di amministrazione chi sono i revisori dei conti chi sono i sindaci fare le visure vedere si scoprirà un quadro che è veramente inquietante senta ma l'indagine l'inchiesta Poseidone l'è stata tolta da chi? l'inchiesta Poseidone mi è stata tolta ma è diventato di dominio pubblico essendo successo poche settimane fa dal procuratore della Repubblica dottor Lombardi e i riscontri hanno tanti indagini fatte inizio con riservatezza non ero manettaro tutt'altro applicavo con correttezza il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale cioè non è che mi giravo dall'altra parte se c'era il coinvolgimento di un politico di un magistrato di un imprenditore o di un massone deviato è il principio dell'uguaglianza ai cittadini in fronte alla legge con un'ottica garantista custodia cautelare l'ho utilizzata quando veramente necessario non avevo le manette facili lo dico perché ogni tanto c'è stata questa pulgata gigina a manetta confondevano il fatto di non guardare in faccia a nessuno come si dice con un'altra frase che a me non piace ma per farci capire con il fatto di essere manettaro in realtà un poca la volta abbiamo individuato ciò che era noto ai più ed è per questo che poi il popolo calabrese mi ha voluto bene perché in quelle indagini si individuavano e toccavano santuari del malaffare che altri non avevano la possibilità il coraggio l'autonomia la forza di affrontarli e come pian piano si sono toccati quei livelli è scattato il cortocircuito istituzionale politico mediatico pensate solo un po' per farvi capire l'enormità del peso che mi è caduto addosso io sono stato il magistrato che ha ricevuto il maggior numero di interrogazioni parlamentari nella storia della magistratura il maggior numero di inchieste amministrative disciplinari rispettive un numero spropositato di denunce penali sono stato praticamente circondato forse non lo so nemmeno io fino in fondo dove stavo arrivando perché il livello d'attacco è stato talmente enorme di fronte a un magistrato di periferia un magistrato giovane all'epoca avevo meno di 40 anni quando accadeva tutto questo quindi che cosa avevo scoperto io un po' l'ho capito un po' l'ho intuito un po' forse no perché è stato talmente pesante l'attacco che vuol dire che stavamo come io poi ho sempre pensato arrivando al cuore dello stato criminale cioè di quella parte di stato in cui esiste un vincolo occulto delle massonerie deviate in cui si prendono decisioni strategiche importanti e si ratificano nei luoghi istituzionali quella grandissima intuizione legislativa che fu la legge Anselmi di cui fu protagonista una donna una grande donna politica Tina Anselmi della democrazia cristiana con i articoli 1 e 2 della legge 1782 la P2 bene io credo di essermi imbattuto esattamente in forme evolutive di quelle che erano le strategie versive all'interno dello stato con l'utilizzo del potere con l'abuso del diritto e con la legalità formale cioè sono stato forse una delle sperimentazioni più alte dell'utilizzo del tritolo istituzionale per fermare un gruppo di lavoro che stava arrivando a comprendere fino in fondo che attraverso la gestione della spesa pubblica e del denaro pubblico si costruivano blocchi sociali oligarchie di potere e si consolidava quella borghesia mafiosa che attraverso i salotti determinava la vita della moltitudine di persone e che ancora in gran parte e così del resto molti nomi di quegli anni che furono determinanti anche per il mio allontanamento alcuni sono ancora operativi in Calabria altri sono stati coinvolti recentemente in inchieste gravissime uno dei principali protagonisti delle attività di delegittimazione e di manovra messa in atto per togliermi le inchieste e mandarmi via dalla Calabria è un uomo che all'epoca negli anni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 era potentissimo stato coordinatore regionale di Forza Italia avvocato penalista deputato senatore uno degli uomini politici più influenti in quegli anni Giancarlo Pittelli recentemente due volte arrestato perché è ritenuto da indagini ordinanze di custodia cautelare confermate poi anche nei gravami successivi come riferimento importante di due dei principali clan mafiosi dranghetisti e la Calabria il clan Mancuso di Libadi provincia di Reggio Calabria e il clan Piromalli provincia di Vibbo Valenza e il clan Piromalli provincia di Reggio Calabria pensate io avevo individuato ciò che poi si è raggiunto al livello indiziario fino all'arresto ben 13-14 anni prima e mi fermarono proprio quando stavamo arrivando alle richieste di misura cautelare a sequestri di beni nei confronti di diverse persone politici di centrodestra e di centrosinistra quasi tutto l'arco sostituzionale coinvolgimento di magistrati appartenenti ai servizi anche uomini delle forze di polizia e uno dei momenti principali perché non posso certo citarli tutti avviene quando nel marzo del 2007 mando un'informazione di garanzia all'avvocato Giancarlo Pittelli parlamentare e non avviso il procuratore della Repubblica non avviso il procuratore della Repubblica perché già avevamo elementi che avevo segnalato alla procura competente alla procura della Repubblica di Salerno che vi era stata una grave fuga di notizie che aveva danneggiato enormemente un'indagine in cui erano coinvolti sia il procuratore sia l'avvocato Pittelli l'avvocato Pittelli il quale era l'avvocato del procuratore amico del procuratore con una vicinanza politica al punto che il procuratore andava addirittura da procuratore a manifestazioni di campagne elettorali di candidati mettendosi in prima fila ma quello che è devastante che pochi mesi prima della notifica dell'informazione di garanzia quindi se non ricordo male nell'ottobre del 2006 il figlio della moglie del procuratore era stato assunto nello studio dell'avvocato Pittelli società Roma 9 Corso Mazzini di Catanzaro e il procuratore aveva addirittura prestato fideiussione a garanzia di tutto questo io per tutelare l'indagine perché un magistrato ha il dovere di tutelare l'indagine da interferenze esterne perché ne si potesse violare il segreto investigativo e non raggiungere quindi la verità che un magistrato deve sempre perseguire una verità ovviamente giudiziaria avevo segretato l'iscrizione nel registro degli indagati dell'avvocato Pittelli in cassaforte per evitare che qualcuno potesse comprendere e sapere delle indagini in corso quando il consiglio superiore della magistratura si occupa della mia vicenda a seguito di sollecitazioni che provenivano su quello che stava accadendo a Catanzaro incredibilmente il consiglio superiore della magistratura invece di sostenere l'azione di un pubblico ministero che aveva difeso l'indagine senza violare i diritti della difesa ma evitando che il procuratore potesse apprendere notizie riservate facendole come era accaduto già in passato sapere al suo amico avvocato Pittelli il consiglio superiore della magistratura disse che avevo sbagliato non dovevo segretare in cassaforte dovevo far finta di niente dovevo avvisare il procuratore facendo finta di niente e il procuratore secondo il CSM si sarebbe dovuto astenere attraverso questo di fronte a una regione in cui c'è un profluvio di collusioni anche all'interno della magistratura io vengo io vengo poi trasferito per incompatibilità ambientale e mi vengono sottratte per incompatibilità e poi viene applicata anche la sanzione accessoria dell'incompatibilità funzionale cioè mi vengono tolte le funzioni di pubblico ministero tutto questo preceduto è dalla revoca da parte del procuratore dell'indagine Poseidone perché il procuratore mi toglie l'indagine appena viene a sapere dell'informazione di garanzia Pitelli quindi non è che io vengo semplicemente segnalato dal procuratore per un eventuale illecito disciplinare il procuratore mi toglie l'inchiesta mentre io indagavo sul suo amico sul suo avvocato su colui il quale aveva assunto il figlio della moglie senta e se dovessero trasferirla da Catanzaro mi auguro che questo non accade non ne vedo come dire le ragioni io sono comunque un magistrato che deve pensare solo al proprio lavoro senza preoccuparsi di quale può essere l'esito delle proprie scelte altrimenti si può cadere nel baratro delle valutazioni di opportunità e poi poco dopo mi viene avvocata dal procuratore generale facente funziona anche l'indagine why not con motivazioni del tutto a mio avviso illegittime e pretestuose sottratte le inchieste non difeso dal consiglio superiore della magistratura non difeso dalla magistratura associata insomma lasciato solo poi a distanza di anni devo dire lo stesso presidente dell'associazione nazionale magistratica che con riferimento alle vicende dell'epoca cioè quando furono anche trasferiti magistrati di Salerno pensate un po' che vicenda incredibile anche i magistrati di Salerno che avevano indagato su tutte queste vicende avevano dimostrato la correttezza totale del mio operato e avevano dimostrato che ero stato vittima di gravi interferenze illecite come mettono un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti anche di magistrati di Catanzaro per fatti gravissimi vengono pure loro immediatamente trasferiti e fermati e avvenne un fatto senza precedenti nella storia giudiziaria cioè che quando questi magistrati di Salerno andarono a fare perquisizioni e sequestri e a notificare informazioni di garanzia in Calabria gli stessi magistrati indagati contro sequestrarono gli atti e come se la polizia che sta intervenendo in un supermercato per fermare i ladri i ladri arrestano i poliziotti e questa passò alla storia mediatico giudiziaria politica e istituzionale come la guerra tra procure che non era una guerra tra procure c'era una procura che indagava nei confronti di alcuni magistrati che invece di difendersi ed eventualmente denunciare questi magistrati ad altri magistrati come prevede la legge se stavano facendo delle cose non corrette addirittura degli illeciti penali contro sequestrano fermando anche l'azione dei magistrati di Salerno che furono poco dopo polverizzati dallo stesso consiglio superiore della magistratura e che cosa dissero i vertici dell'associazione nazionale magistrati dell'epoca Luca Palamara presidente dell'ANM Giuseppe Cascini segretario dell'ANM quindi la magistratura associata nel suo complesso il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi la frase che io trovo a distanza di così tanti anni inquietante che ha portato però debbo dire Palamara a confessare nel libro che lui recentemente ha scritto con il direttore del giornale Sallusti in cui dice effettivamente dei magistri sfuffato fuori perché era un cigno nero dice lui era un magistrato fuori dal sistema quindi io invece di essere tutelato dall'organo di autogoverno della magistratura come sancisce la Costituzione il consiglio superiore della magistratura invece di essere tutelato dai magistrati addetti al potere disciplinare della procura generale della Cassazione dell'ispettorato del Ministero della Giustizia insomma da tutti gli altri apparati dello Stato vengo schiacciato mi vengono sottratte le inchieste trasferito tolte le funzioni non può mai più fare il pubblico ministero per la Calabrese è una speranza perché forse l'unico giudice che riuscirà forse un giorno a mandare l'indrangheta per la Calabrese è la mia testa della nostra testa la cosa che più mi ha ferito è quando il procuratore della Repubblica mi ha tolto l'indagine di Poseidone è un'indagine alla quale ho dedicato due anni compreso le ferie credo di aver passato in due anni almeno 20-25 nottate su Poseidone De Magistris stava in quel momento indagando sulle ruberie di miliardi di denaro pubblico per la formazione professionale mai vista e per i depuratori mai fatti poi arrivano le ispezioni ministeriali bipartisan una la manda il ministro Castelli governo Berlusconi una la manda il ministro Mastella governo Prodi per tre anni praticamente De Magistris ha lavorato con gli ispettori in ufficio lei quante ispezioni ha subito? io farei un discorso diverso cioè sono sotto ispezione senza soluzione di continuità sostanzialmente da circa tre anni questo che comporta? comporta soprattutto da un lato la conferma della bontà non vorrei essere sarcastico ma della bontà del lavoro investigativo e processuale che uno sta facendo perché è un po' sintomatico che ci si interessi solamente di magistrati che fanno un determinato tipo di inchieste dall'altro comporta che io ormai da circa un paio d'anni trascorro più o meno un paio di giorni alla settimana a dovermi difendere a distanza di tanti anni tutti gli accertamenti giudiziari mi hanno dato ragione addirittura il consiglio superiore della magistratura in sede di revisione che si può fare solo per i fatti sopravvenuti ha dovuto riconoscere a distanza di tanti anni la correttezza del mio operato per meglio dire che non potevo dice il CSM agire diversamente rispetto a quel contesto non si poteva chiedere una condotta esigibile in maniera diversa da chi si trovava in un contesto ambientale così inquinato certo avere ragione a distanza di anni fa piacere certo c'è la frase il tempo è galantuomo certo è una vittoria morale ci sono anche le vittorie giuridiche ma è un prezzo devastante c'è un prezzo in termini professionali in termini familiari il fatto che io dovetti andare via dalla Calabria e lasciare la mia famiglia con dei bambini piccolissimi che non capivano perché io me ne dovessi andare dalla famiglia dovetti spiegare a mio figlio grande che all'epoca teniva sette anni che io venivo trasferito perché facevo il mio dovere giustamente lui mi disse papà ma perché se uno fa il suo proprio dovere viene trasferito potrei continuare con danni irreparabili cioè il fatto di non poter più svolgere funzioni di pubblico ministero certo non mi hanno radiato non è che mi hanno obbligato alle dimissioni ma devo dire dopo quel quadro putrefatto da un punto di vista istituzionale che ho vissuto sulla mia pelle credo che ci fosse proprio in quel momento un'incompatibilità a restare in quell'ordine giudiziario quindi progressivamente mi sono dimesso prima dall'associazione nazionale magistrati e poi dalla magistratura rinunciando a uno stipendio alto perché mi potevo mettere in aspettativa a una pensione molto alta l'ho fatto perché avevano raggiunto veramente un livello nauseabondo nauseabondo cioè quello che ho visto è qualcosa davvero difficilmente sopportabile quindi è quasi un miracolo che io posso ancora raccontare oggi quello che ho visto e di cui si potrebbe parlare tantissimo c'è una violenza istituzionale senza precedenti non mi hanno mai perdonato evidentemente di aver toccato magistrati forse pensavano che mi dovessi girare dall'altra parte forse pensavano che i panni sporchi si lavano in famiglia o per meglio dire i panni sporchi non si dovevano evidentemente proprio lavare probabilmente il collante delle massonerie deviate basta andarsi a rileggere ad ascoltare anzi un'intercettazione dell'allora presidente della regione Calabria Giuseppe Chiaravalloti già procuratore generale di Reggio Calabria già vice procuratore generale di Catanzaro come si dice avvocato generale dove a un certo punto con una profezia che poi si è avverata lui aveva avuto la premonizione di dire lo costringeremo per tutta la vita a difendersi ciò che sta continuando ad accadere perché ogni volta che il racconto delle verità scomode questi poteri agiscono con querele azioni civili vorrebbero il silenzio ma anche qui Pasolini mi ha insegnato che chissà non può tacere non ha il diritto di parlare perché questo ce lo dà la Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo c'è il dovere da parte di chi svolge funzioni pubbliche istituzionali di denunciare i reati nei luoghi preposti davanti alla magistratura e io l'ho fatto raccontare i fatti nelle sedi istituzionali io l'ho fatto e laddove non c'è nessuna ragione di segreto raccontare i fatti pubblicamente perché la gente deve sapere non ci può stare né oblio né ignoranza né segreto su alcune nefandezze che hanno contribuito fortemente ad inquinare il tessuto democratico ad impedire lo sviluppo di una terra e condizionare la vita di tantissime persone il presidente della repubblica dell'epoca è stato un protagonista di questa pagina così terribile grave inquietante ingiusta protagonista perché lui da presidente della repubblica come la costituzione prevede era anche presidente del consiglio superiore della magistratura quindi quella pagina nera vede un protagonismo diretto di Napolitano che tra l'altro è stato protagonista di alcuni passaggi di quelle vicende di alcuni incontri di alcune dichiarazioni di alcuni interventi certo quella è un po' la ciliegina sulla torta di fronte a un magistrato di frontiera un magistrato impegnato in prima linea nella terra complicatissima in indagini così pericolose si rivolge al presidente della repubblica nella lettera di dimissioni e il presidente non si avverte nemmeno la necessità di una risposta penso che è un silenzio inquietante che vale più di ogni parola grazie a tutti Grazie a tutti.